Invece a Sergio Nordio chiediamo che tempo fa? Il tempo adesso è tranquillo, abbiamo una condizione assolutamente stabile in questi giorni, correnti secche che hanno portato anche un abbassamento della temperatura. Viviamo questo periodo con delle ondulazioni, fra due o tre giorni tornerà aria un po' più umite e torneranno anche delle deboli precipitazioni, soprattutto la giornata di martedì, scusate, e anche un po' di neve in montagna, diciamo che ci avviamo ormai verso l'inverno.